buongiorno e benvenuti sul canale di alfrede 73 oggi vediamo come funziona e come testare e riparare un radiocomando chiave di chiusura centralizzata auto dotato di trasponder quando la chiave della chiusura centralizzata dell'auto non funziona i motivi possono essere diversi possiamo avere problemi di contatti di batteria di batteria scarica oppure di interruttori malfunzionanti oppure può essere un problema più complesso come quello di questo nostro video questa è la mia chiave il proprietario sostiene che questa chiave non apre e non chiude la propria autovettura vediamo in dettaglio come effettuare una diagnosi escludendo ovviamente problemi di scarica o di contatti sulla batteria la prima cosa che potete fare ad ogni modo è sempre quella di cambiare la batteria che potrebbe essere esausta anzitutto effetto un primo test di presenza della radiofrequenza con un multimetro sulla portata a 200 millivolt fondo scala quindi la più sensibile e con l'utilizzo di un diodo rivelatore al germanio sigla a o 95 vado a rivelare il segnale di radio frequenza questa tecnica è stata oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a guardare su come rivelare il segnale radio di qualunque telecomando funzionante sui 433 megahertz con questo diodo avvicinato al mio radiocomando sono in grado di captare il segnale radio rivelarlo e trasformarlo in una debole tensione dell'ordine di millivolt che sarà indicata dal tester nel caso di corretto funzionamento del radiocomando tuttavia questo telecomando premendo il relativo pulsante non dà nessun segno di tensione quindi è guasto e non emette radiofrequenza per intenderci un radiocomando correttamente funzionante come questo qui per esempio da 433 megahertz di un campanello wireless avvicinato al mio circuito rivelatore farà comparire sul mio multimetro una debborissima tensione di millivolt indice di presenza del segnale radio questa tecnica di rivelazione a diodo può applicarsi a qualsiasi radiocomando e anche alle ricie trasmittenti a 433 megahertz a questo punto decido di aprire il guscio di questa chiave e ricercare approfonditamente il guasto una volta aperta la custodia mi trovo davanti questo circuito stampato composto da tre microswitch un microprocessore centrale un'antenna del trasponder e un'antenna 433 megahertz verifico che la batteria sia carica e che comunque i contatti siano non ossidati come al solito l'esplorazione visiva per i circuiti elettronici risulta il modo migliore per iniziare l'analisi di un guasto verifichiamo che non ci siano segni di acqua di ruggine di ossidazione o di bruciature dobbiamo cercare macchie di ossido oppure parti bruciate o interruzioni sulle piste del circuito stampato ma nel mio caso non ho nessun tipo di riscontro vado ad effettuare perciò il test con un multimetro sulla portata continuità dei miei microswitch per il verificare che non siano guasti il primo pulsante funziona anche secondo sembra funzionare ed anche il terzo quindi il problema di questo radiocomando non è sicuramente nei microswitch a questo punto di solito decido di fare una pulizia del circuito utilizzando del vd 40 in modo da rimuovere eventuali impurità o magari corpi estrani che in qualche modo o possano compromettere il buon funzionamento di questo circuito concludendo sempre con una spruzzata di aria compressa per rimuovere ogni possibile residuo ma anche questa pulizia non ha l'effetto sperato e quindi è il momento di effettuare una diagnosi più dettagliata in maniera molto semplificata allora vediamo come funziona una chiave transponder unitamente all'antifurto immobilizer in pratica ogni volta che inserite la chiave della vostra autovettura nel cilindro nella vostra autovettura è presente l'immobilizer che è un sistema antifurto elettronico che è in grado di collegarsi con la centralina dell'auto e con il motorino di avviamento l'immobilizer nega il consenso di accensione del veicolo nel caso in cui non sia stato riconosciuto il codice elettronico fornito dalla chiave del veicolo questo codice ogni volta diverso è generato dall'algoritmo presente nella chiave transponder l'antifurto funziona per accoppiamento induttivo inserendo la chiave nel blocchetto di accensione una bobina posta sul intorno al cilindro emette della radiofrequenza dell'energia che viene captata dalla chiave e che la chiave contenente il chip transponder utilizza anche per autoalimentarsi una volta ricevuto un codice dal cilindro questo codice viene rielaborato dal chip del transponder in base ad un algoritmo proprietario e viene restituito al cilindro un altro codice che è la conseguenza della corretto algoritmo di decodifica e soltanto una volta che il cilindro avrà ricevuto questo terzo codice corretto consentirà l'accensione del veicolo questo processo avviene in pochi millisecondi nei primi modelli di chiavi con chip transponder con immobilizer il transponder era contenuto come un elemento a parte all'interno della chiave ed è quello indicato in questa figura vedete la bobina l'antenna di ricezione dell'energia e del codice un condensatore di accumulo e un chip che restituiva il codice corretto al cilindro di accensione nel tempo questo transponder ha assunto le forme più disparate tra cui quella di un piccolo pezzettino in plastica inserito all'interno della chiave negli ultimi più recenti modelli invece questo transponder è già compreso all'interno del chip e ce ne accorgiamo perché innanzitutto abbiamo un'antenna che è un'induttanza di rice trasmissione presente sul modulo e inoltre non è presente la pillola del transponder a parte all'interno della chiave in pratica il chip gestisce sia la chiusura centralizzata a 433 megahertz sia il transponder a 125 kilohertz e allora andiamo a vedere lo schema elettrico di questo chip partendo da sinistra abbiamo l'antenna rice trasmittente per il transponder dell'immobilizer e all'interno dell'integrato vedete la sezione relativa proprio al transponder sulla destra invece abbiamo la sezione relativa al controllo remoto di apertura e chiusura centralizzata in basso notiamo i quattro pulsanti per l'apertura centralizzata un eventuale led e la pila al litio a tre volte in alto sulla destra invece abbiamo l'integrato trasmettitore di radio frequenza a 433 megahertz integrato di solito appartenente alla famiglia t 57 xx il quale partendo da un oscillatore da un ritornatore ceramico posto al piedino 5 del valore di 13.560 megahertz divide questa frequenza per quattro e la fornisce come segnale di clock sul suo piedino 1 all'integrato pcf 7946 l'encoder nonché microprocessore centrale il quale alla pressione del pulsante genererà il codice che andrà a modulare il nostro segnale al chip della radiofrequenza in ingresso al piedino power amplifier enable per la modulazione radiofrequenza piedini 34 sono collegati all'antenna 433 megahertz sul circuito stampato e più abbiamo il piedino 8 che è il piedino enable per accendere e spegnere il trasmettitore nonché i piedini 6 e 7 rispettivamente alimentazione positiva e ground per poter effettuare dei controlli dei test più approfonditi posiziono il mio circuito su un morsetto e vado a saldare due cavi di alimentazione per 3 volt tra positivo e negativo da collegare al mio alimentatore variabile da tre volte poter effettuare liberamente i miei test senza utilizzare la batteria a bottone vado ad alimentare questo mio telecomando con una tensione di tre volte collegandola al mio alimentatore e in più utilizzando il mio solito oscilloscopio portatile a batteria vado a fare qualche misura sullo stadio di modulazione a bassa frequenza che esce dall encoder e va al generatore di radiofrequenza attraverso il pin PA enable su questo checkpoint è possibile trovare il segnale di modulazione a bassa frequenza e quindi verificare se l'encoder emette questo segnale di codifica per il chip trasmettitore a 433 megahertz premendo un pulsante noto il treno degli impulsi di modulazione presenti correttamente all'uscita di questo integrato encoder di conseguenza possiamo dedurre che non solo il chip encoder funziona correttamente e manda il segnale di modulazione al chip di radiofrequenza ma anche l'oscillatore locale che divide la frequenza per quattro e la fornisce come clock all encoder funziona perfettamente se il risuonatore ceramico fosse guasto o il divisore di frequenza fosse guasto questi impulsi non sarebbero presenti all'uscita dell'encoder possiamo affermare che anche il risuonatore ceramico collegato al chip di radiofrequenza e con funziona correttamente anche il divisore di frequenza in esso presente evidentemente il problema si trova nel stadio modulatore dell'alta frequenza presente nel chip stesso l'amplificatore di radiofrequenza finale che fa capo all'ingresso pa enable del circuito del chip radiofrequenza che evidentemente non riesce a generare questa frequenza amplificata ed infatti se poniamo la sonda sulla sua uscita dei piedini 3 e 4 vediamo che non è presente il segnale codificato evidentemente questo chip radiofrequenza è guasto per la parte finale di amplificazione del segnale radio e quindi dovrà essere in qualche modo sostituito a questo punto invece di sostituire il singolo chip decido di sostituire tutta la scheda per scongiurare eventuali altri problemi su altri componenti della vecchia scheda ad un prezzo di poco superiore del chip posso procurarvi una nuova scheda esattamente identica alla precedente ha un costo di 20 euro su aliexpress a questa scheda toglierò il suo chip vergine originario e vi sostituirò il mio encoder che contiene la chiave codificata specifica della mia autovettura e in questo modo non correrò il rischio di eventuali altri problemi su altri componenti della vecchia scheda per evitare danni agli altri componenti durante la di saldatura e saldatura piuttosto che usare la pistola ad aria calda decido di utilizzare un fornetto elettrico tipo questo che raggiunge una temperatura di circa 350 gradi per scaldare il lato libero del mio circuito stampato e riuscire agevolmente a togliere innanzitutto il chip vergine dalla mia scheda appena acquistata in questo modo il processo di saldatura avverrà con una temperatura la minima possibile e senza ulteriori danni agli altri componenti del mio circuito stampato vado ad applicare il mio solito flussante di qualità amtec 559 lo scopo di questo flussante vi ricordo è quello di favorire una uniforme di saldatura grazie alla uniforme riscaldamento dello stagno presente sulle piste applicandolo sia in fase di di saldatura che in fase di saldatura le nostre saldature smd saranno perfette molto veloci pulite senza lasciare residui per evitare errori vado a segnare il mio chip buono con un pennarello rosso in modo da non confonderlo con l'altro vergine che non mi interessa se vi sta piacendo questo video questo è il momento buono per mettere like e iscriversi al canale per sopportarmi grazie una volta accesa la piastra quando questa avrà raggiunto i 350 380 gradi centigradi circa vado a porre la mia scheda nuova per dissaldare il chip non codificato e in pochi secondi dopo averlo appoggiato con una pinzetta vado a rimuovere agevolmente il mio chip senza danneggiare la nuova scheda allo stesso modo prenderò la mia vecchia scheda da cui andrò a rimuovere il mio chip codificato con il pallino rosso anche qui in pochi secondi la dissaldatura è avvenuta con successo pongo il mio chip codificato sulla nuova scheda ospite attraverso il posizionamento corretto di tutti i piedini in corrispondenza delle piste del circuito stampato per poi con delicatezza adagiarlo nuovamente sulla piastra di riscaldamento ed effettuare la saldatura in pochi secondi in questo caso osserviamo come la liquefazione del flussante ci permette di vedere dal vivo il momento esatto in cui avviene la saldatura del nuovo chip con questa tecnica di saldatura sicuramente poco invasiva molto pulita e anche molto semplice da realizzare lasciamo raffreddare il nostro circuito stampato e a questo punto possiamo andare a rimontare la nostra chiave per effettuare una prova al volo riprendo la mia custodia con la pila a bottone al litio e appoggio il circuito sui suoi contatti per fare un test però volante con questo che è un tester di radiocomandi specifico marca vuoi o che ci permette di verificare anche la frequenza sommariamente generata da questo radiocomando appena riparato una volta collegata la pila tre volte ai due contatti rispettivi vado ad avvicinare il mio radiocomando al mio tester e a premere un qualunque pulsante per verificare la generazione della frequenza come vedete il tester ci indica sommariamente la frequenza di 433.8 megahertz in corrispondenza di ciascun pulsante premuto segno evidente che adesso questo radiocomando sta emettendo radiofrequenza e quindi la riparazione è avvenuta con successo e quindi con questa semplice tecnica dello scambio dei chip tra una scheda non funzionante e una scheda funzionante abbiamo risolto il problema del guasto del chip radio frequenza sul vecchio a scheda del nostro radiocomando auto a questo punto non mi rimane che rimontare la chiave e provare il tutto dal vivo se vi sta piacendo questo video vi invito come al solito a mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi rimontata la mia chiave vado ad effettuare un test sull'autovettura aprendo e chiudendo la mia chiusura centralizzata e dunque la chiusura centralizzata 433 megahertz funziona correttamente non mi rimane che provare l'immobilizer con il trasponder a 125 kHz e dunque anche questa riparazione è avvenuta con successo bene amici di youtube spero che questo video vi sia piaciuto che sia stato di vostro gradimento vi ringrazio per la visione vi invito ovviamente a mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi e vi do appuntamento alla prossima volta